Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino e questa è Occhio ai giornali. Tra poco vedremo subito le notizie con i titoli più importanti dai quotidiani Corriere, Adriatico e Resto del Carlino, come di consueto però prima cominciamo dal Santo del Giorno, vediamo se possiamo fare gli auguri questa mattina a qualcuno, a quelli che portano per esempio il nome del Beato Ambrogio, quindi quelli che si chiamano Ambrogio, la Chiesa Cattolica ricorda oggi Ambrogio Traversari, è stato un monaco. Il sole è sorto alle 7.07 e tramonterà alle 16.40, vediamo il tempo per oggi con il nostro touchscreen che ci mostra il sito internet della protezione civile delle Marche. Oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con aumento delle velature in serata, non ci saranno precipitazioni, mentre le temperature minime saranno in lieve diminuzione, quelle massime, quelle del giorno, saranno stazionarie. Ma dobbiamo dire, e non possiamo lamentarci perché anche nella giornata di ieri insomma è stata una bella giornata di sole, i venti sono di brezza leggera o tesa. Per martedì domani, 21 novembre, il cielo sarà sereno poco nuvoloso, con temperature in aumento in particolare nei valori massimi. I venti sono di brezza leggera o tesa meridionale, il mare sarà poco mosso. Le condizioni saranno stabili con il tempo soleggiato per tutto il resto della settimana. Allora, andiamo subito a vedere i giornali. Ieri c'è stato un tantam su Facebook, sui social network, una fotografia che ha ritratto il cartello di una scuola, una scuola pesarese. Il cartello era riferito alla scuola Anna Frank, appunto che ha sede a Pesaro, imbrattata con una svastica. Una foto che ha indignato non solo il primo cittadino Matteo Ricci, ma che ha fatto il giro del web, ha fatto il giro anche di tutti i telegiornali italiani. E allora, andiamo a vedere i giornali e cominciamo dal Corriere Adriatico. Il titolo è Svastiche all'Anna Frank, delinquenti ignoranti. Sono le parole del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, quelle di denuncia sulla sua pagina e sul suo profilo Facebook. Il sindaco Ricci denuncia, scuola già ripulita, interviene anche Renzi. Uno schifo, una svastica sul cartello della scuola intitolata appunto Anna Frank, uno sfregio senza giustificazione. I tifosi biancorossi, sempre rimanendo a Pesaro, Cruz fa esultare la vis, Agnonese KO, la vis che vince 1-0. I biancorossi soffrono ma poi vincono tre punti che sono d'oro. Ma andiamo a vedere la foto, quella che viene chiamata la foto della vergogna. Eccola qua, a tutta pagina, con il cartello subito ripulito. Ma non solo, non si sono questi ignoranti, perché in effetti sono ignoranti, dovrebbero studiare qualcosa di più. Ma al di là di questo, basta guardare quello che hanno combinato. Il cartello qua, la scritta, altri segni delle SS naziste, insomma di tutto di più. Svastica, sfregio a Anna Frank, questo è il titolo, Ricci delinquenti e ignoranti, scritte e simboli apparsi alla scuola elementare, subito rimossi o coperti, indagini dei carabinieri, condanna unanime, bipartisan, anche Renzi interviene. Uno schifo, quanto accaduto a Pesaro. E intanto anche qui sulla strada, vedete, anche sulla strada non hanno risparmiato nemmeno l'asfalto. Questa ragazzina fa ancora paura, riferendosi chiaramente alla piccola Anna Frank, ma è lei a vincere. Lampi, un simbolo da temere per chi disprezza la democrazia. Il Corriere Adriatico poi pubblica la fotografia che ha postato Damiano Bartocetti, del presidente dell'UMPLI provinciale, l'Unione, insomma, del Proloco, che si riferisce, questa fotografia, ad un finestrino di un'auto infranto per rubare all'interno. Ora, qui andrebbe, bisognerà tornarci su questa cosa, e lo faremo anche nel nostro telegiornale, magari anche questa sera, I ladri non risparmiano neanche il Beato Sante, due volte derubata la mamma del presidente dell'Eproloco. Ora, questa è la fotografia, si riferisce al Beato Sante, però vi posso assicurare che lo stesso giorno, tant'è che sono intervenuto anch'io sul sito, sul profilo di Bartocetti, dicendo, impostando anche io una fotografia di un'auto, una Fiat Punto Bianca, che proprio lo stesso giorno, mentre il Beato Sante sfondavano il finestrino a Montegiove, sulla strada per Montegiove, un'altra auto parcheggiata è stata aperta, e hanno aperto poi il baule dietro per cercare di vedere se c'era qualche cosa, mentre soltanto il 24 di ottobre, lo stesso, sempre lì a Montegiove, sulla strada per Montegiove, hanno rotto un finestrino e hanno preso i soldi che stavano all'interno. Ora, cosa succede? E su questo bisognerà che le forze dell'ordine intervengano. Così come accade nei cimiteri, nei luoghi un po' dove poco affollati, soprattutto quello dell'ulivo, o quelli sparsi nell'entroterra, ma soprattutto quelli che vanno a fare una passeggiata, quelli che vanno a correre, che fanno un po' di sport, eccetera, eccetera, parcheggiano lungo le strade delle colline nostre pesaresi, eccetera. Ecco, tutte queste auto vengono puntualmente prese di mira da qualche balordo. Ora, come hanno preso di mira il Beato Santo, hanno preso di mira anche la strada per Montegiove, quindi le forze dell'ordine dovrebbero tener conto di queste cose. Poi spesso non si denuncia, perché oltre a perdere tempo, purtroppo è così, però ecco, sappiate che se lasciate l'auto per andare a fare due passi, è inutile lasciare le cose dietro il baule, perché sanno già che le mettete dietro il baule. Quindi non serve a niente. nasconderle alla vista. Allora, andiamo adesso invece sull'altra pagina, quella di Pesaro e Provincia, sempre del Corriere Adriatico. Uno tsunami d'amore per l'arbitro di basket pesarese Gianluca Mattioli, ma morto in Spagna a causa di un virus. Parole d'addio per Mattioli, oggi l'autopsia si cerca la causa della morte. Salma in Spagna ha i funerali attesi in migliaia di persone. La pagina di Fano, invece, da Cecconi solo offese. Noi lottiamo per i servizi. Il sindaco di Fano, Massimo Serri, replica ai 5 Stelle. L'onorevole non ha avanzato alcuna proposta concreta. Andiamo ancora avanti. Sapori e aromi. Ieri c'è stata una bella domenica di sole e tantissima gente ha sapori e aromi d'autunno. L'iniziativa che si svolge al CODMA di Rosciano. Ecco la vetrina delle eccellenze agroalimentare. Questo è il titolo. Premio Marche Nostra, il gruppo Piera Lisi e al sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nero. Il riconoscimento anche all'Associazione regionale Sommelier e all'Istituto Apolloni. Ancora, siamo a Pesaro. Il banco torna e cerca volontari per poter aiutare chi non ha nulla. Sabato prossimo, nei supermercati, la giornata della colletta alimentare. Mentre vi ricordo che ieri la Chiesa Cattolica ha celebrato la giornata mondiale dedicata ai poveri. Intervento subito eseguito. Siamo sulla Valle del Cesano a Pergola, la scuola che ha avuto problemi di infiltrazioni d'acqua. Domani l'attesa riapertura. La scuola materna ha risolta l'infiltrazione d'acqua. Oggi le ultime verifiche. Luca Castratori, l'assessore ai lavori pubblici di Pergola, dice che dobbiamo rimediare i lavori male eseguiti nel 2001. Il sole, il sole che bacia in fronte alla strapanoramica. Una splendida giornata ha favorito il successo della prima edizione del San Bartolo senza traffico. L'ente Parco stima una partecipazione di oltre 2.000 persone alle numerose iniziative organizzate. Andiamo sull'altra pagina, quella sempre di Pesaro del Corriere. Bocciodromo a Palto Lampo per via La Marmora si cambia. Firmata la determina, entro fine anno la gara per il complesso di via dell'Acquedotto. E poi alla chiesa di Cristo Re i funerali di Masetti. Lo storico avvocato si è spento a 96 anni. Si terranno oggi alle 15. appunto i funerali dell'avvocato Corrado. Urbino, il camionista diventa manager e va a lezione di autotrasporto. Ateneo è confartigianato insieme per affrontare nodi e opportunità del settore. Apriamo adesso invece le pagine sportive perché la situazione insomma non è per niente rosea per il Fano che continua a perdere. Poi è esonerato anche il suo direttore sportivo, il suo direttore generale. Questo è il titolo. Costantino infierisce sul Fano. L'ex della Vis porta avanti il Sud Tirol e Fioretti fallisce il rigore del pareggio nei minuti di recupero. La squadra di Brevi, ancora impacciata e confusionaria, resta sempre in fondo alla classifica. Il Fano ha perso in casa contro la squadra del Sud Tirol. Mentre il basket, VL di nuovo sul fondo, a Trento pochi i segnali di vita da parte di una squadra in perenne difficoltà. Tutto facile per la Dolomiti. Pesaresi ultimi in buona compagnia e comunque a due punti dai play-off in una classifica stranissima. Il risultato finale è Dolomiti Energia. Trento dunque 91, VL Pesero 74. Ore di paura, restando sempre sul basket ma fuori dal parquet. Ore di paura per Costa. Costa che è il presidente della VL che ha passato la notte in ospedale a Pesero. L'allarme poi è rientrato. Il presidente nel pomeriggio di sabato è stato ricoverato al pronto soccorso di Pesero per un lieve malessere, tachicardia. È stato trattenuto 24 ore in osservazione e dimesso nella giornata odierna. Per quanto riguarda invece, tornando al Fano e sempre sul Corriere Adriatico, Menegatti esonerato, ora Larini o Spadoni. Il DS è stato sollevato dall'incarico. Oggi ci sarà una conferenza stampa del presidente dell'Alma Gabellini. La VL Pesero invece continua a vincere. Gemma Cruz dell'Inzia e la VL. Basta il primo gol su azione del brasiliano per superare l'Agnonese al Benelli. Il quinto successo di fila, i bianco-rossi, rimangono sempre a meno tre dalla vetta. VL Pesero 1, Agnonese 0. Questo è il risultato. E gli applausi di Riolfo non è stato facile. La squadra di pallavolo più importante della regione è sicuramente la VL che gioca nella massima serie. L'Ube che vince 3-1 contro Monza. La L'Ube da corsa a Monza, la G Group, ha giocato senza timori. A tratti ha anche messo in difficoltà i campioni d'Italia. E poi tutta la cronaca di questo incontro sulla pagina del Corriere. Apriamo adesso invece il resto del Carlino. Anche qui a centro pagina vedete la svastica, anzi le svastiche della vergogna. Caccia ai teppisti che hanno imbrattato il cartello della scuola. Anna Franca, Santa Maria delle Fabrecce, sdegno unanime. A partire dal sindaco indagano i carabinieri. Sopra invece, sotto la testata del giornale massacrata di botte dal mio ex, non avrò un euro di risarcimento. Parla Donatella, picchiata selvaggiamente. Nel 2016 avevo il cranio fratturato, non riesco più a fare quello che facevo prima. Lui ha avuto lo sconto di pena, ora è ai domiciliari in casa di sua mamma. E poi l'assalto dei ciclisti con la stra panoramica. La prima funziona, ma la navetta non basta. E sotto paura per Ario Costa, ricoverato per un malore e poi dimesso. E il colpo di scena, lo vedremo tra poco, nell'incidente, quello di Cantiano, l'amico ritratta, guidavo io il pick up, si è presentato in procura a Ubino con il suo legale. Allora entriamo nelle pagine interne. Caccia teppisti, svastiche, simboli delle SS indagano i carabinieri. Altro caso, disegnati falce martello su un'auto di una insegnante. Un insegnante, ha rivelato ieri in un altro atto teppistico e danni di un suo collega, venti giorni fa, da un docente di una scuola superiore di Pesaro, considerato evidentemente troppo di sinistra, è stata disegnata con lo spray sul cofano della sua vettura, una falce martello con la scritta sporco comunista. Torniamo sull'incidente, e lo fa anche il Carlino questa mattina, l'incidente di Cantiano, di qualche giorno fa, dove ha perso la vita il 27enne Cristian Fiorucci di Gubbio. E allora si era inventato un ruolo diverso, in realtà, l'albanese rimasto ferito nell'incidente di giovedì scorso. Perché? Perché lui non era il passeggero, questo conducente del pick-up uscito di strada finendo contro un muretto. Quando sono arrivati i primi soccorsi, il corpo senza vita del 27enne era riverso sull'asfalto accanto alla portiera del lato guida, mentre hanno trovato in piedi dolorante il 22enne collega di lavoro di nazionalità albanese. E lui disse agli agenti della polizia stradale di essersi salvato per miracolo perché seduto sul lato passeggero, mentre il suo compagno di lavoro era alla guida. In realtà non è così. Poi si è presentato in procura con il suo legale e ha detto guardate che a guidare quel pick-up ero io. Il gusto, andiamo avanti con la rassegna stampa, andiamo sull'altra pagina, quella che è di Fano. Il gusto e l'impegno in vetrina al Codma, al Via Sapore e Romi d'autunno, premio Marche Nostra al Sindaco Falcucci e al Liceo Artistico a Polloni. E poi lo sport con la Serie D. Wilson mette la cruz sull'agnonese. Il match, i biancorossi martellano gli ospiti, poi trovano la via del gol. Tre punti che valgono oro, lo ricordiamo, vi spesero uno, agnonese zero. Mentre è rivoluzione in casa Granata, e qui parliamo del Fano, dal miracolo a una crisi nera. Risultati dunque che non arrivano. Dopo la salvezza un avvio da dimenticare. E anche qui, per quanto riguarda la cronaca della partita del Fano, l'ex vis punisce il Fano, esonerato il DS Menegatti, crisi Granata-Costantino segna la rete della vittoria. Poi ci sono anche le pagelle. L'ultima pagina della nostra segna stampa è per il basket, con quello giocato, che il titolo è LECA, e quell'avvio da dimenticare. Siamo giovani, impareremo. Dagli spogliatoi abbiamo provato a rientrare, dicono, ma inutilmente, sorpresi, soprattutto sotto canestro. E poi sotto, invece, la notizia del Presidente Ario Costa, ricoverato per una fibrillazione. Sabato complicato, niente trasferta, è già in casa, tutto a posto, ma va evitato lo stress. Dunque, fibrillazione, non proprio tachicardia, ma fibrillazione. Auguri. Allora, noi ci fermiamo qua. La rassegna stampa torna domani mattina, come sempre, alle 7.30. Noi ci rivediamo, invece, questa sera alle 20.30 con il telegiornale. Occhio alla notizia. Per tutte le vostre segnalazioni, come sempre, siamo a disposizione. Quindi il nostro numero ormai lo conoscete, 338-4968-250. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci. Allora, noi ci rivediamo, invece, come sempre, alle 20.30 con il telegiornale. Allora, noi ci rivediamo. Allora, noi ci rivediamo, invece, come sempre, alle 20.30 con il telegiornale. Allora, noi ci rivediamo. Allora, noi ci rivediamo.